www.feyyaz.com Ragazzi, tranquilli, tranquilli. Bello l'architetto di papà. Firma qua sotto, là. Guarda lena a paddle. Hai mai provato il paddle? Lì si corre di meno. Ragazzi, il paddle è tasticato, eh? No, Giovanni, guarda, scusa, tragedia. C'è il nome che è cascata, si è fratturata, si è fatta male, non riesco a venire. Non mi vede bene? Guarda. Non sapete che siete struttati! C'è pazzesco! Certo, proprio oggi dove hai fatto male. Mi sfotti! Capirai, te stai così. I gemelli sono partiti per Erasmus. Vediamo con chi c'è qua. Sta cazzo di pandemia ci sta a mettere in croce proprio. Vabbè, comunque io vi ringrazio, vi faremo sapere. Chi sono i più forti? Chi? Dimmelo! Mi raccomando, che cosa devi dire a mamma? Che sono andata alle cene di violino. Bravo. Io ti ho chiamato 37 volte e lui tu stava? A giocare a racchettoni. Eh, lo so, regà. Scusate, d'altronde lo sapete che... Dai, 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 dai. Ho visto gente giocare a questo sport Dai che sto stanno, dai! Dai, dai! Tutto stanno... Tutto stanno... Dritto rovescio, sempre così. Così, è vero. Ehi, dai, dai! Te taglio! E quell'altro? Va... 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 Te! E poi te, Alù? C'hai in culo, figlio mio? Ho sbagliato, ho sbagliato. Non vedi un cazzo! Sì! Sì! Quindi per te noi siamo passati da 22 coglioni che corrono dietro una palla a quattro deficienti dentro una gabbia con una padella a mano. Tu mi devi condividere la tua posizione in tempo reale per 12 ore! Posizione... Mattei, un secondino. C'è? Devo fare una fotina per Monica per fargli vedere che stiamo al campo, capito? Che se fida? Eh, poco. Va beh, dai. E guardi che abbiamo prenotato per due ore, eh? No, è mio padre. Fra due giorni vi porto in Argentina il Santo Graal del Paddle. Ah. Perché mio figlio non può perdere. Signor Sergio, non siamo mica professionisti. Aluchi! Tu non ti muovevi! E mo? Mi ti sei messo a far coppietta con quest'altro deficiente di mio fratello! Giorni che state a smaniare per sta partita, regà! Ma che è? Eh, che se siamo giocati in viaggio. Per come sei messo solo un colpo ti può salvare. La grata loca. Corto! Piega! Dritto! Corri! Sei in ritardo! Corri! Rovescio! Uno! Vai! Dobbiamo fare la finale prima di Natale altrimenti non si fa più. Mercoledì devo andare a Terme di Stigiano con Michela. Ho dovuto regalare una smart box per calmare l'acqua. È giovedì. È giovedì, eh? Quando cazzo stanno questi? Questa è la raiola, i baci su Planare! Ma-te-o! 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 Ma-te-o!